Sì, posso confermare che è stato appena pubblicato sul nostro sito istituzionale nella sessione dedicata agli avvisi e agli esami il relativo bando che prevede al momento una sessione il 24 maggio, quindi in anticipo rispetto a quelle che sono le normali date di svolgimento e che si terrà a mare naturalmente sempre con le condizioni meteomarine favorevoli e quattro giornate espressamente dedicate qui nel compartimento marittimo di Torrelle Greco nel mese di giugno. A ciò si aggiunge anche poi l'iniziativa della Capitania di Porto di Napoli, della Direzione Marittima di Napoli che terrà ulteriori sessioni nel mese di giugno qui nel territorio del compartimento marittimo di Torrelle Greco proprio per cercare di riuscire a recuperare tutti i marittimi che avevano interesse a fare l'esame ma che purtroppo a causa delle chiusure imposte dalla pandemia non è stato possibile soddisfare. Questi corsi sono propedeutici per il successivo imbarco? Sono requisiti richiesti dalle norme vigenti, dal codice della navigazione in primis per poter completare l'iter relativo all'iscrizione nelle matricole dell'agente di mare quindi sì sono elementi essenziali per poter intraprendere la carriera di marittimo. Qui a Torrelle Greco quanti sono i marittimi che dovranno effettuare questi corsi? Adesso un numero preciso non li posso dare, posso soltanto dire che attraverso le sessioni che abbiamo programmato tra la fine di maggio e il mese di giugno prevedendo un numero massimo di candidati nel rispetto delle normative Covid non superiore a 30 riusciamo a copire tra i 150 e i 200 candidati. Grazie.